Ben ritrovati, ben ritrovati, io sono qui con la domanda... No, aspetta, aspetta, allora vedi, è il destino che debba rispondere oggi alla domanda. Non credo, non credo. No, Luciano, parlavamo con Massimo, adesso glielo richiederò, del fatto che questo finale di stagione ha un po' rinvigorito, rafforzato il legame tra Allegri e gli Juventini, e ha rinvigorito anche lo stesso Allegri, che secondo me è mai come adesso voglia di ritornare in sella, e per Brambati la possibilità che alleni la prossima stagione è più che una possibilità. Ma ragazzi, Allegri è uno dei migliori allenatori che ci sono in circolazione, non ci scordiamo che ha vinto tante panchine d'oro, e panchine d'oro le danno i colleghi, quindi che lui abbia possibilità e voglia di ritornare, su questo non c'è dubbio, che abbia anche una parte di tifosi che praticamente prima era ostile a lui, non c'è altrettanto dubbio, però vedete i tifosi, io mi raffronto sempre all'Inter quando parlo di tifosi, ma voi sapete quanti, allora nei 70.000 che gridavano Simone Inzaghi allo stadio, c'erano al minimo minimo 30-40.000 infiltrati che l'anno prima, quando ha perso a Bologna, gli dicevano out, 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 e quindi il calcio è questo, bisogna prendere per quello che è. Quindi Allegri deve continuare perché è uno che il mestiere dell'allenatore lo sa fare e sicuramente sarà di aiuto a molte squadre. No, ma sai perché? Ah, ma questa domanda qui? Eh no, ma io voglio, adesso arrivo da Massimo. No, perché noi in Italia contestiamo Allegri, Pioli, che sono le attività di Champions, che è un'assurdità. Pioli addirittura in tre anni ha vinto un campionato e è arrivato due volte a seconda, ma che gli vogliamo dire? Poi gli dicono che ha perso sei derby, quando io ero al Torino la Juvenza li ha persi tutti, in cinque anni ha perso tutti i derby, però vinceva i campionati. Piccola differenza. Quindi il problema, anzi no, non li vinceva i campionati, tra poco li vincevamo uno col Torino, ci è mancato poco. No, quello che dico Massimo, è che il fatto di sentire che Allegri tornerà ad allenare mi fa venire un altro problema, nel senso che già dobbiamo capire chi allenerà il Milan, chi allenerà la Juve. Non è detto che allenerà l'Italia. Non è detto che allenerà l'Italia. Ecco, 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 lì che volevo sapere, questo pranzo delle meraviglie. Cioè, ma parlate più forte perché io non so. All'estero, va all'estero, Molgi, va all'estero. Non è detto che venga qui. Ma c'era in quel momento, immagino. Ma quindi ha delle proposte. Si è introdotto. Si è introdotto, Luciano. Si è introdotto, giustamente. Poi noi oggi tutti e tre ci sentiamo meglio. Per un motivo che sappiamo io, Luciano. Ah sì? Abbiamo le orecchie che sono più attenti. Ah, forse lo conosco anch'io. Forse lo so anch'io il motivo. Forse l'unico, io l'ho saputo indirettamente, non è una cosa che mi coinvolge. Meno male che ci sono dei professionisti bravi che sanno fare il loro dovere. Non è un mistero, non si può capire, ma lo sappiamo noi tra. Sì, sì, anch'io, anch'io. No, no, potrei anche... Non sono quattro. Vado via io. Vado via io. No, no, stai, stai pure. Tanto il tuo parere su Allegri l'ha già detto. Io pure. Adesso ti predirei, fermiamo, stoppe con Allegri. Oh, Inter. Bravo. Inter. È il giorno. 22 maggio. Pensate per nella storia degli interisti. Ricordavano oggi sul giornale, no? Vinse il triplete Murigno il 22 maggio e il 22 maggio del 2024 succede che l'Inter passa di proprietà. Perché poi è questione, penso, di minuti. Bertone ci darà il comunicato ufficiale o forse entro la mezzanotte. Non c'è bisogno del comunicato ufficiale. È di OCTRI. Giusto, Moggi? È di OCTRI. Sì. E devo dire che la linea comune è del pensare che questo cambiamento porti solo del cambiamento in positivo. E adesso su questo non c'è dubbio. Perché una proprietà assente come quella dell'Inter con un presidente che non si presentava neanche alla festa e non poteva più venire in Italia, dicevano, o comunque non c'era più. Però è anche vero, Elena, i tempi... Cioè, lo prende un fondo. Il fondo di solito è speculativo, non giusto. Lo rivenderà qualcun altro. Secondo me il fondo ha già in mano la società a cui rivenderlo. Perché comunque è da febbraio che più o meno si era capito che non sarebbe rientrato del prestito. Quindi il fondo non è che sta ad aspettare. Probabilmente cerca di capire come potersi muovere nel momento in cui si avrà la certezza che il prestito non verrà ripagato. Perché poi bisogna giocare a bocce ferme. Quindi io credo che abbiano già in mano un nuovo compratore. Certo, questi hanno fatto un bel affare. Hanno preso la squadra di campionità. Assolutamente, sì. I risultati dell'Inter l'hanno presa all'apice, tra virgolette, del loro potere d'acquisto per l'Inter. Quindi è facile da vendere. Secondo me sì. È molto appetibile sul mercato l'Inter, oggi come oggi. C'è una dirigenza che è fantastica. La numero uno in Italia. Ha degli ottimi giocatori. Comunque arriveranno altri ottimi giocatori a parametro zero, adesso dal primo di luglio. Quindi, credo che sul mercato sia veramente appetibile pensare di investire in questa società. Per chi è interessato ad investire nel calcio. Però mi stai dicendo, perché a maggior ragione per acquisire una società sono trattative che devono essere già in porto, che ce la subito, ce la intasca questa società. O si prenderà un anno, un ponte, ci sarà una gestione ponte di octrie e magari l'anno prossimo ci sarà. Potrebbe esserci una gestione ponte. Assolutamente. Però io credo che anche se ci fosse una gestione ponte sanno già a chi rivenderla. Ah, ecco, il compratore c'è già. Massimo, cosa ne pensi? Di questo... Perché ha colto tutti... Cioè, si credeva che a un certo punto Zang potesse con Pimco riavere degli altri soldi per sanare il debito con octrie e andare avanti così. Eh, capirai. Eh, capirai, è giusto, c'ho ragione, ma oggi per altri tre anni. Avrebbe procrastinato un problema. Perché quello era un problema insito all'interno dell'Inter. Un proprietario che non si fa mai vedere, che non so da quanto tempo non riesce a stringere le mani ai propri dirigenti, è sicuramente un danno per i dirigenti che comunque, come ha giustamente detto bene Enela, hanno fatto benissimo, nonostante tutto. Quindi hanno fatto bene nonostante la proprietà fosse, secondo me, un intralcio più che una, diciamo così, un... Un aiuto. Un aiuto. Quindi io credo che sicuramente andrà nel meglio. Ora però bisogna vedere, come giustamente ha detto Enela, il fondo è sempre un ente speculativo. se è entrato è perché deve guadagnare. Ora bisogna vedere come può guadagnare. Perché guadagnare... O vendendo dei giocatori o avendo già un comprato... No, se vende Marotta ci ha prende un sacco di soldi. Se vende, scusa, scusa. Marotta. Eh no, ma voi vedete... Allora, guardate... Ma sai che ti dico? Marotta e Ausilio quasi quasi hanno... Non proprio bene come abbiamo fatto noi. Però, insomma, sono vicini a fare quello... Noi siamo stati formidabili. Io, lo sapete, che non sono uno che si vanta, per cui... Il problema è in fondo. Però devono stare attenti ora perché adesso c'è il nemico che ha zanna. Non è certamente Uctri. quando voi avete seguito la Juventus in quei momenti che andava e dava spettacolo poi c'è stato qualcuno che praticamente ha frenato questo spettacolo volutamente. Siccome in Italia queste cose esistono adesso è bene che tutti siano tutta sulla difensiva per evitare quello che è capitato a noi. Ma a noi, sai, ci è capitato perché sono morti tutti dalla proprietà e quindi non poteva essere diversamente perché togliere dall'ambiente quelli che erano stati con l'avvocato e con il dottor Agnelli poteva essere anche una cosa normale perché si ritorna al discorso del direttore che porta all'allenatore. Certo, certo. È la stessa cosa. Però mandati via come ci hanno mandato via a noi è un po' difficile questo sì. Il modo è stato terribile. No, ma infatti io quello che mi chiedo ma non te lo devi chiedere. Ma io me lo chiedo perché Marotta e Ausilio sono bravi bravissimi eccezionali è vero ma se arriva che sia Octrio un nuovo proprietario magari per Marotta e Ausilio il fatto di non avere nessuno che non è giusto ma gli concedeva una carta bianca cioè potevano dire a Barella tranquillo ti rinnovo il contratto Lautaro tranquillo adesso prendiamo questo avevano anche un margine di manovra con pochi soldi perché devono fare le cose sotto questo profilo cambia qualcosa sotto questo profilo può cambiare qualcosa perché prima avranno esaminato conti avranno fatto di licenze tutto quello che vogliono però poi dopo l'input del proseguire lo dà sicuramente la nuova proprietà quindi potrebbero essere più tirati potrebbero essere anche e maggiormente aiutare maggiormente i dirigenti che operano per portare avanti una situazione perché attenzione qui in questo campionato c'è un fatto un po' particolare che nessuno evidenzia ma sembra che tutti giochino per l'Inter dell'anno prossimo perché la Juvezzo cambia allenatore il Mila cambia allenatore il Napoli cambia allenatore sono le squadre che dovrebbero competere con l'Inter e l'Inter non cambia niente e forse mette dentro Taremmi e altri giocatori per fortificare quindi il problema dell'Inter del dialogo futuro è un dialogo è un futuro che può esistere ancora quindi ha tutto vantaggio del nuovo fondo ha tutto vantaggio del nuovo fondo che potrebbe anche speculare sul fatto di dire a un giocatore a te non ti do quello che chiedi ma ti do questo è un problema di conduzione questo qui che non si può dire in questo momento ma lo si può capire nel momento in cui entrano in funzione io credo che Ammarotta e Ausilio non possono dire niente possono solo ringraziarli perché da soli senza presidente ricevendo l'input probabilmente telefonico hanno portato avanti una situazione economica che ha abbassato praticamente il debito sicuramente qualitativa qualitativa perché ha vinto il campionato ma che si vuole di più sapete che film mi faccio poi magari sbaglio io mi faccio questo film proprio perché sono Marotta so quello che ho fatto no tu non sei Marotta ma allora si viene a confondere le idee metti che a questo punto il mio potere la parola che ho speso con Barella venga fermata un attimo e quale parola ha speso con Barella so che ti rinnovo il contratto così come con l'autato mi arrabbio io Marotta mi arrabbio ma non ti deve arrabbiare Giovanni ho questa paura ma io se devo dire che in un'intervista Ausilio non mi è piaciuto che ha fatto non le io lo dico sinceramente io sai che sono un canesciotto lo sai no direttore ha tirato ha tirato un po' di veleno su degli allenatori che ha avuto e io vi dico che non ha detto tutta la verità a me la sono persi qualche allenatore del passato cioè cioè ha parlato un po' di Di Marco che non veniva preso in considerazione da qualche allenatore precedente però però si dimentica di alcuni particolari perché Di Marco quando vince l'Under 19 e viene messo all'interno dell'Inter e viene convocato da un allenatore dell'Inter arriva Dario Baccine e dice no questo non lo portiamo perché non può giocare neanche in serie B e siccome gli allenatori poi dopo che ti vengono a dire c'è Leao da comprare a 45 milioni e lui dice no Leao non lo compriamo a 45 milioni risparmia i 45 milioni mettiamone 65 per Lukaku la settimana dopo lo vendono al Milan a 35 come mai il Milan va a 35 e tu ce l'avevi Leao in mano a 45 anche quel retroscena ha fatto capire che era stato Conte il nostro parla di Leao ma dico come mai certo perché 10 milioni sono più bravo quindi ci sono delle cose che a volte uno magari non conosce il dettaglio e Gioao Mario ha 40 milioni non l'ho preso io ragazzi bisogna pensare che ci sono dei giocatori anche che sono stati presi sono stati spesi tanti soldi e non è che uno scudetto può cancellare tutte visto Gioao Mario per quello che ha fatto ultimamente è meglio prendere certo ora ma l'Inter era una piaga no no è vero qualche qualche scivolone no scivolone però ognuno fa i propri scivoloni questi non sono scivoloni è dare notizie fuori posto perché un dirigente non può fare eh non deve dire è inutile che ridi non deve dire no mi sta ridendo in faccia e questo non mi dispiace oh no hai ragione sono d'accordo comi comi quest'Inter nuova la vedi ancora targata marotta ausilio io c'ho sta paura di perdere credo che la prima cosa che hanno detto è che hanno confermato la dirigenza quindi credo che hanno tutte le possibilità di continuare il loro lavoro bisogna vedere come perché ma nessuno è profeta in questo momento nessuno è un mago in questo momento nel capire tranne tu perché abbiamo svelato che comi non ti buttare giù no io credo che comunque l'Inter stai su di morale Antonio perché ha azzeccato due o tre pronostici oggi perché ha azzeccato tre o quattro cose che ho detto ma lei arriva alle nove e mezza scusa ma perché ho suonato il campanello dieci minuti Torino è una città magica quindi un po' di magia ce l'abbiamo noi che viviamo Torino quindi credo che l'Inter possa continuare a fare bene per di più come diceva prima Moggi le altre sembra che lo fanno apposta nel cercare di non ravvicinarsi all'Inter è vero questo è pacissimo quindi vedremo secondo me l'Inter è avvantaggiata l'anno prossimo ancora poi vedici anche un altro fatto è che gli algoritmi non aiutano il Mila perché Fonseca praticamente è il prediletto dell'algoritmo e questo non vuol venire allora è contro l'algoritmo Fonseca e ci sono delle cose che bisogna guardare e allora lì bisogna mettere l'avvocato e certo e no con l'algoritmo bisogna far se serio perché non si scherza siamo di fronte a un dirigente che ha vinto tantissimo con la buona gestione di una società ma sapessi la fatica ma guarda lui dice un dirigente che ha vinto moltissimo lui è stato al Torino con me gli unici anni belli che hanno passato loro era quando c'ero io ci è mancato poco che vincessimo la Coppa UEFA facendo al novantesimo un palo una traversa portiere battuto e in precedenza ne avevamo fatti due di pali e finita 0-0 e siamo arrivati secondi e siamo arrivati secondi in campionato e tra poco si vinceva se uno che adesso fa il designatore e allora faceva l'arbitro non ci avesse fatto perdere in casa col Verona 3-2 con un rigore che non c'era una partita stregata dove noi prendiamo pali traverse e dove io da ragazzino qual'ero ogni tanto venivo aggregato vidi a Verona tra Radice e Dossena quello che abbiamo visto in campo all'Olimpico lo vidi all'interno dello spogliatorio molto peggio è andato tutto in prescrizione è in prescrizione o si viene e si racconta un po' di Pepe se no stiamo a casa scusi direttore Elena avevano promesso un po' di aneddoti ma scusi ha aspettato che arrivasse il direttore ma il direttore mi ha pure minacciato che mi avrebbe fatto giocare in Afghanistan quando ha scoprì che io tagliavo il prosciutto in sede e mi chiamò e mi disse sai qualcosa tu di questa roba e io disse no non so niente va bene allora vai in Afghanistan a giocare no gli ho detto sono stato io sono stato io ma vedi io tenevo l'ambiente allegro e questo giocatore anche se non sapevano giocare come lui poi mi chiamò come osservatore poi mi chiamò come osservatore alla Juve io entrai nel suo studio nel suo ufficio con la poltrona di pella umana aveva 26 telefonini io prima di parlare io mi sedetti di fronte a lui e prima di parlare passarono almeno 45 minuti quindi stetti lì a sentire tutte le telefonate la prima cosa che mi disse fu lo vedi questo quadro e io disse sì c'erano c'erano rappresentati Di Alli Baggio e Ravanelli e Ravanelli e c'era questo e lui mi disse li vedi questi qua non ce n'è più uno qui perché volevano fare ti dissi vuoi fare la fine di questi esatto no lo mettevo nel quadro anche a lui attenzione era un attimo era un attimo che ti inserirei no il problema è che io per entrare mi strappai per entrare nel portone mi strappai la giacca mi strappai la giacca e quindi non potete più stare con la giacca arrivò Ancelotti e perché all'epoca c'era Ancelotti e mi disse sei senza giacca basta vattene via mi disse ma mi prendeva in giro io figurati ero tutto mi sono fatto prestare una giacca da un signore che lavorava con la giacca con le mani lui era timido sì era timido almeno all'inizio ci credo ecco ben ritrovati allora per chiudere il capitolo Inter in attesa dell'ufficialità di un qualcosa che abbiamo già detto cioè che l'Inter passerà a Doctri dopo otto anni di gestione targata no perdon sei anni di gestione targata Zang che ha portato trofei ha portato due scudetti ha portato tutto quello che sapete i sei trofei di Inzaghi due scudetti uno dei quali il primo è stato proprio quello di Antonio Conte i tifosi che ringraziano si sprecano le considerazioni social su questa gestione Zang che ha consegnato a Doctri un intervincente io mi voglio soffermare e io invece voglio dirti a te che hai trascurato una cosa dimmi dimmi cosa 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 che c'è sempre lo zampino di qualcuno della Juventus in queste cose il consigliere di Doctri sai chi è? Albanese torna sempre vedi una questione biancola e ha consigliato bene e lui massimo si mette le mani nei capelli che non c'hanno senti chi parla vieni dalla parrucchiera mia ma che chiacchieri guarda che te le fa rinascere guarda a me ma che te le fai i capelli no questo è un dato vero che non avevamo sottolineato che è giusto fare ma hai visto che ti ho trovato in fallo? hai ragione hai ragione ammetto io però che sono una che con le parole insomma ovviamente ci lavora forse dà anche troppa ho troppa memoria uno magari spaglia mezza non esageriamo no nel senso nel ricordare gli errori no magari non è che mi stessi perché ma Marotta quando è venuto fuori il discorso il comunicato di Zang che praticamente ha detto alzo le mani mi sta chiedendo l'Inter io sono costretta a dare ha detto questa è una giornata tremenda poi poi a ridosso della festa c'è corretto ecco ma perché l'ha definita tremenda io non vorrei che per i dirigenti non dico per l'asset societario dell'Inter per ma dirigenti abituati a muoversi con una libertà pazzesca magari si ritroveranno degli uomini di questa nuova proprietà o del fondo stesso che gli porranno dei vincoli questo potrebbe anche essere questo potrebbe anche essere che il movimento in libertà di Marotta e di ausilio possa essere un po' frenato su questo ci posso ci posso anche pensare però quando due hanno lavorato come hanno lavorato loro se li frenano praticamente è peggio per loro no no è che potrebbero magari ritrovarsi frenati con un mercato pazzesco che punta gli occhi su di loro si ora però sai c'è l'ABS ci sono tante cose che praticamente c'è la frenata insomma sicura adesso poi ecco per esempio la sua frena praticamente se ti addormenti senti un suono praticamente ti sveglia perché è il momento che si avvicina un'altra macchina mamma io con tutti quei suoni lì io sono un po' all'antica datemi una macchina che non suona ogni due secondi è perché ti avvisa dell'autovelox è perché si stai togliendo dalla curta figlia di una bicicletta fai come faccio io ma la macchina è di mia moglie non neanche mia quindi quando è successo siamo rimasti tutti un po' spaventati dal rumore dalla frenata si perché fanno tutto da soli vabbè qualcun altro faccio come ha qualcosa da dire sull'Inter lo faccio adesso io credo comunque che i calciatori sicuramente si staranno informando tramite perché questo è proprio una cosa classica di quando cambia la proprietà quando cambia la proprietà chi deve essere rinnovato chi può essere messo sul mercato chi chi un domani magari dovrà essere acquistato o dove c'è una trattativa io credo che i giocatori chiederanno informazioni non ti dico saranno allarmati questo no perché non si non si sa se Oktri sarà una proprietà che darà una mano alla squadra la società ai dirigenti oppure se frenerà questo io non lo so quindi non possiamo io non posso dirlo però sicuramente il calciatore in questo momento si chiederà si domanderà e vorrà delle garanzie chiederà sicuramente se insomma uno su tutti Lautaro che è in fase di rinnovo e che pare che insomma i soldi che ha chiesto non sono pochi bisogna vedere se questo Oktri è funzionale al discorso del rinnovo oppure se preferisce percorrere un altro tipo di strada piuttosto che questo però io non lo so se c'è già un compratore praticamente può dire quello che vuole e può disporre anche del giocatore se non c'è un compratore deve rinnovare il contratto a Lautaro perché è l'avvenire che conta questo praticamente è di normale amministrazione quindi Oktri in questo momento ecco anche questo sarà un segnale se avrà il compratore subito se l'avrà in futuro tenendo conto che l'Inter è il campione d'Italia potrebbe averlo anche subito e potrebbe essere un affare in questo momento perché a me mi hanno insegnato io per esempio una volta dovevo comprare due cavalli no? dovevo comprare due cavalli e mandai un collega mio perché io ero impegnato e mi aveva detto praticamente un guidatore francese di Pont voi non lo conoscete perché di queste cose non vi interessate siamo io allegri che ci interessiamo e mi aveva detto praticamente che questi due cavalli costavano 150 milioni io ci mandai questo qui e questo praticamente la fortuna volle che mi scelto quello che non mi ha corso e l'altro era Varenne pensate un po' tu non sai chi è Varenne no no so che è un grandissimo campione perché mio padre è un appassionato di cavalli e quindi tutto torna ha introdotto un argomento importante il cortomuso ora vi spiego anche che significa il cortomuso di Allegri il cortomuso di Allegri significa un arrivo in fotografia praticamente e la fotografia stabilisce che ha vinto quell'altro di una narice è un po' come nel Vara come nel Vara dobbiamo anche cogliere l'occasione per spiegare queste cose qui perché il calcio non è mica solo pallone è anche cortomuso lo è diventato Allegri e fatto da guardie ladri a cortomuso allo slip della giacca ma questo guarda sai che significa non significa una negatività come intendono tutti significa espandere la propria mente verso anche altri sport e riuscire anche in quelli io per esempio avevo quattro cavalli ho vinto il derby perché al cavallo gli parlavo gli dicevo mi doveva fare e il cavallo faceva ti rispondeva pure il cavallo allora abbiamo le dichiarazioni di Lautaro a proposito ragazzi io voglio sapere andiamole a leggere io invece vorrei sapere come si fa arrivare a mezzanotte ma adesso cambiamo adesso parliamo di algoritmi vedi come arriviamo spediti a mezzanotte vedrai siamo vicini mancano solo un paio di cosette dice Lautaro non fa ridere perché è da febbraio che mancano ste cosette adesso sono cosone perché giustamente prima di tutto non sa chi è l'interlocutore se fino all'altro ieri poteva essere Marotta col bene placente di Zanga adesso non è così perlomeno i tempi tecnici si sono un po' allungati ho detto in settimana perché poi finisce il campionato e volevo definire tutto prima della Coppa America mi rendo conto però che la situazione societaria possa ritardare tutto noi parliamo con Marotta ausilio ma dipende anche dalla proprietà aspettiamo non so cosa accadrà da qui alla prossima settimana ma non ci sono problemi tra di noi e e già mi sembra un Lautaro molto tranquillo che vuole dare un segnale distensivo è una nuova proprietà per non entrare chi l'ha fatta l'intervista? adesso chi? che giornale? ma penso che l'abbia fatta lui in occasione della festa quindi nelle tante ma che giornale? che giornale Bertone? perché l'ho letta su un sito ma non so esattamente non ci devo dire no no è Bertone un giornale si può dire no certo se c'è una fonte che non ha parlato alle sette chiese ma ad un forse alla gazzetta alla gazzetta Bertone ma no io pensavo veramente ad un altro giornale ma che miseria ragazzi pensavi tutto sport pensavo tutto un altro giornale pensavi un altro giornale vabbè ma insomma due cosette mancano sapere chi mi deve pagare e chi serve gazzetta giusto porca miseria è strano però è strano che la gazzetta di solito non intervista nessuno no che la gazzetta non fa uscire queste interviste serene tranquille e traduciamo in cifre ecco traduciamo cos'è il messaggio quali sono queste cosette sono 3 milioni che ballano tra l'offerta però ripeto è tutto datato 3 milioni per 5 anni sono 15 e non sono cosette 3 milioni che ballano non do balla no se ballano 3 milioni all'anno vuol dire che se gli fai 5 anni sono 15 rimarrà Comi o anche qua cioè se prima eravamo sicuri adesso io farei una domanda al direttore ma lei confermerebbe Lautaro per 5 anni a quale condizioni ma io per 5 anni non confermo nessuno vedi già la risposta il problema perché come i cavalli anche i giocatori si possono formare allora è giusto fare e non ride Massimo quindi ai giocatori li puoi fare agli allenatori io ho sempre fatto un anno con l'opzione per il secondo e dovevano vincere perché altrimenti non li confermavo ai giocatori due anni con l'opzione per il terzo ma sempre un'opzione che praticamente portava a decidere a seconda del modo di giocare del soggetto queste sono le cose basilari non è che era un fenomeno a pensare questo sono fenomeni quelli che non ci pensano è al contrario esatto sono fenomeni al contrario Elena in effetti insomma Lautaro chiede non poco chiede veramente tanto però è anche vero che lui è il gioiello dell'Inter alla fine con cosa ne ha fatti 22 quest'anno capo cannoniere ha trascinato la squadra certo perché alle spalle c'era un centrocampo che lo riforniva di palloni non dimentichiamolo però sicuramente a mio modo di vedere lui dovrebbe rientrare tra gli incedibili di questa squadra probabilmente come attaccante io metterei più sul mercato Turam in questo momento che a me piace molto di più Turam sinceramente come calciatore 24 gol Lautaro però tu dici se proprio devo fare cassa è comunque il leader di questa squadra ruota tutto intorno a lui è lui il soggetto carismatico io per esempio per far cassa venderei a Cerbi beh a Cerbi comunque ragazzi è stata un'intuizione pazzesca perché è passato anche da casa Milan e nessuno si è accorto o ha saputo capirne le qualità nel suo modo di giocare praticamente è stato utile dovunque è andato è vero è vero un grande giocatore questo bisogna un grande professionista però certo l'età insomma gli impedisce di poter essere utilizzato per far cassa ma mi è piaciuto perché con una battuta mi piace andare in pubblicità perché poi torniamo parlando di algoritmi nelle battute mie brava vedi così mi piace grazie a tutti